Prendete posto dai che partiamo subito per il nuovo viaggio, accomodatevi Ok, la nostra cappotreno va velocissima Attenzione dai che partiamo, siamo pronti? Attenzione, viaggi, viaggia, suoniamo le campanelle, vai Grazie Grazie Ecco, aumentiamo, la nostra macchinista ha messo un po' più di carbone, andiamo più veloci allora, andiamo Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti